Ambrosino Sky, prego Cosa ne pensa della Borsa a te e se teme che possa pescare dei gruppi dalla destra? Ma guarda, io penso di poter ragionare soltanto per la mia parte, per la mia parte sono contento di quello che ha detto, ma oggi Matteo Salvini, ma anche per il vero è sempre stato confermato da tutti i rappresentanti del centro-destra. Per quanto riguarda il fatto che ci siano altri candidati, questi sono parte della democrazia, sono contento che ci siano altri candidati e niente, io non farò altro che confrontarmi con loro. Noi abbiamo un progetto di futuro di questo paese, stiamo realizzando e stiamo portando avanti idee sul futuro di questo paese. Io credo che non ci sia da fare un po' le amiche organizzate, bisogna semplicemente ognuno presentare il proprio progetto. Noi, ripeto, il progetto l'abbiamo ben chiaro, lo stiamo realizzando e vogliamo continuare a realizzarlo. Le altre cose sono tutte le ginocchia di giochi, non ci da quello che vuole. Grazie a tutti.